2 agosto 2012 i tarantini scendono in strada per i loro diritti nasce il comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti 2 agosto 2013 un anno insieme per costruire un futuro diverso diverso dalle menzogne la menzogna della vocazione industriale la menzogna della vocazione militare le menzogne di uno stato assassino giù le mani da due mari taranto 2 agosto 2013 città vecchia una giornata carica di attività per vivere e riprenderci i nostri spazi ombreloni sulla marina dalle ore 11 attività per bambini mostre corteo a mare concerto finale contro la colonizzazione dei nostri mari e della nostra terra 2 agosto 2013 giù le mani da due mari vizie a tutti